In una sala gremita Claudio Arcarese ha presentato venerdì 18 novembre 2022 il sultimo lavoro dal titolo San Cataldo, il Casale, la Baronia, la città, un evento organizzato dall'associazione culturale Giuseppe Amico Medico che lo stesso presiede e che ha visto gli interventi dei sindaci di San Cataldo e di Caltanissetta ma anche dello storico Luigi Bontà che ne ha curato l'introduzione. Il libro è stato patrocinato gratuitamente dal comune di San Cataldo e sostenuto da diverse realtà del territorio. La prefazione è stata curata dallo scrittore e consulente letterario nonché fondatore dell'associazione Noi e la Sicilia Enzo Russo. Non si tratta della prima fatica letteraria dedicata alla sua città per Claudio Arcarese. Nel 2018 aveva pubblicato infatti il volume incentrato sulla settimana santa san cataldese intitolato San Cataldo la città della scinnenza e dei San Paoloni. Adesso realizza un nuovo volume sollecitato da più parti si legge nella nota a lavorare un nuovo progetto che raccontasse la sua città nel suo complesso dalle origini e giorni nostri. L'opera permette al lettore di immergersi nella storia della città di San Cataldo tra qualche aneddoto personale, curiosità ma anche arte e cultura e persino memoria. Attraverso i due capitoli fotografici gocce di memoria con immagini in bianco e nero che raccontano la San Cataldo di un tempo e persino foto di famiglia e saluti da una raccolta di cartoline d'epoca appartenenti alla collezione di Francesco Scarantino. Il libro di Arcarese cerca di raccontare la città rivolgendosi soprattutto ai giovani ma anche più curiosi e possibili visitatori andando indietro nel tempo descrivendo il processo di formazione e trasformazione del territorio si precisa nella nota e della sua comunità.